I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato a Partinico oltre 5.000 capi di abbigliamento contraffatti ad un imprenditore. In particolare, i finanzieri della compagnia di Partinico hanno constatato che un noto esercizio commerciale della zona esponeva in vetrina alcuni capi di abbigliamento di famosi brand, riportanti caratteristiche di formi da quelle presentate dalle marche produttrici. Le fiamme gialle allo scopo di verificare la vera provenienza della merce hanno richiesto l'esibizione delle fatture d'acquisto dei prodotti e ogni altro tipo di documentazione attestante la liceità degli articoli presenti e posti in vendita. Vista l'assenza di qualunque giustificazione della legittima provenienza dei capi di abbigliamento, i finanzieri hanno proceduto a estendere i controlli anche al magazzino della ditta, rinvenendo e sottoponendo a sequestro oltre 5.000 articoli risultati contraffatti. A conclusione delle operazioni, il titolare del negozio è stato segnalato alla locale procura per ricettazione e per il commercio di prodotti con segni falsi.